Buongiorno, anche oggi facciamo le risposte dalle angeli, pensate a una domanda e vediamo cosa dovesconde Allora, il numero 90 Le difficoltà formano il tuo carattere Allora, vediamo se prende, ok A volte ti sarà capitato di sognare a occhi aperti Una vita più facile, senza ostacoli e preoccupazioni Ma sei sicuro che questo potrebbe davvero farti bene? I problemi evitati sono problemi irrisolti Le condizioni avverse ci rendono determinati e decisi A fronte le difficoltà con tenacia e impegno diventerai sempre più forte Questo è il messaggio di oggi del libro delle risposte Con questo vi auguro una buona giornata